Il capo di stato maggiore della milizia, generale Galbiati, in visita al fronte russo, giunge in un aeroporto del fronte accompagnato dal capo dell'estuma Ftarnungen, Lutze. Il cordiale incontro col generale Gariboldi, comandante del nostro corpo d'operazione. Il generale Galbiati passa in rassegna alcuni nostri reparti. Il generale Galbiati ispeziona i battaglioni di camicia nera. Il generale Galbiati riprende il suo giro di spezione. Grazie. 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 Grazie.